Benvenuti amici e un ciao anche ai mici. Era tanto tempo che non ci vedevamo ma come saprete è iniziato Sanremo e io qui ho la lista delle canzoni e ora insieme daremo qualche piccolo giudizio. Le organizzerò in tre categorie. Intanto vorrei ringraziare le due persone che hanno richiesto questo video che sono Edoardo e Laura, che saluto, che staranno mangiando mentre guardano questo video. Allora, partiamo con le canzoni. Le organizzerò quindi in delusioni complete, canzoni neutre, né carne né pesce, invece canzoni decenti, secondo me. E poi magari alla fine faremo qualche piccola prova di previsione. Allora, canzoni di Achille Lauro domenica. Bella, l'hai fatta l'anno scorso, l'hai fatta due anni fa, direi totale fallimento perché Achille Lauro cambia lavoro se sai fare un solo tipo di canzone. H7, neutra, canzone inutile. Anamena, 200.000 ore. È di un trash colossale, ma fa schifo al cazzo sta canzone. Darjan, per me puoi fare quello che vuoi, lo sai che sei un fratello. Quella di Darjan è bellissima. Sicuramente sarà forse quella che farà più successo di tutte, però non credo possa vincere, anche se all'Eurovision potrebbe fare un bel successo. Dito nella piaga, che ancora non ho capito bene chi è. Condonatella Rettore, chimica. Secondo me invece questa è un top, insieme a quella di Darjan, che era un top. È carina, non è il capolavoro della vita, ecco. Canzone che secondo me invece vincerà, o comunque potrebbe vincere, saremo insieme ad un'altra che vediamo dopo. È Elisa, o forse tu. Questa è bella, molto bella, mi piace molto. Forse non è luce tra un monte nord-est, però è una bella canzone, sicuramente è quella che ho ascoltato di più. Emma, ogni volta è così. Allora, prima di tutto io ho un problema, non riesco a riconoscere. Emma Marrone da Alessandra Moloso, non sono la stessa persona? No. È canzone identica a tutte le altre, fa schifo al cazzo, però avevo la Michielin come direttrice d'orchestra, quindi un punto in più. Fabrizio Moro, che cazzo è? Che canzone di merda. Gianni Morandi, ok. Apri tutte le porte, qui Gianni. Giovanotti ti scrive le canzoni. Giovanotti è impazzito, è un pazzo malato. Si è bruciato, al cervello, da qualche tempo a questa parte. Si fa produrre i dischi da sto mega cazzo, ma le ultime canzoni sono terrificanti, ma davvero terrificanti. Questa è un flop assurdo, ma farà un successo della Madonna, ovviamente. Giovanni Truppi, tuo padre e mia madre Lucia, questa mi piace, non vincerà mai Sanremo, ma presumo vincerà il premio della critica. Mia Martini, perché in effetti è molto bella come canzone, ma non è assolutamente sanremese. Giussi Ferreri, Miele. Eh, allora, la roba lì che urla nel tubo è carina. Ha delle vibe un po' swing, ma non troppo. Ha delle... poteva essere un po'... poteva usare un po' di più, metterci un ritornello un po' più catchy ed era buona, ma così rimane neutra, secondo me. Xnob e U, che sono i comacose tarocchi, anche se direte assolutamente di no, neutra. Una canzone che esiste, ma non è che mi metto lì a riascoltarla. Il mio grande amico Irama, ovunque sarai, uguale a quella dell'anno scorso di due anni fa, tre anni fa. Ma cazzo, ma c'è un po' di inventiva, ma vi fa schifo proprio? Tanto la telecamera fa dei rumori improbabili. Iva Zanicchi, allora, quella di Iva Zanicchi non è tanto male, tenendo conto che ha 82 anni. 82 anni. Quindi, allora, sarebbe una neutra perché non mi piace particolarmente, però per l'interprete, per... ok, il prezzo è giusto, le do top sulla fiducia. Rappresentante di lista, che invece mi piace molto, ciao ciao, è carina, canzone da TikTok, devo dire. Quindi è carina, si ascolta, volentieri. Le vibrazioni, sì, che qua fanno un po' gli after hours di noi autri, ma fanno cacare al cazzo, cioè la canzone delle vibrazioni è terribile. Si chiama tantissimo e fa tantissimo schifo. Mahmood Blanco, con questi vibe molto Guy Marinai, è una canzone, sì, diciamo, se mi dite Mahmood Blanco fanno una canzone insieme, io penso, ok, viene così. Infatti è così, non è brutta brutta. Potrebbe vincere Sanremo, sì, perché Mahmood l'ha già vinto e quindi sappiamo che potrebbe capitare. Quella di Massimo Ranieri mi piace molto, poteva vincere Sanremo 84, però, cioè prima di perdere l'amore, appunto, perché l'ettera al di là del mare non è perdere l'amore, però non è male. E tra l'altro Massimo Ranieri ha solo 70 anni, io questa roba non me ne capacito, devo dire. intanto scusate se la telecamera fa cose un po' a caso, sì, sì, fa quello che ripara lui. Matteo Romano, che ha vinto Sanremo Giovani, virale, allora, chiamare virale una canzone nel 2020 non è un'idea del cazzo, però va bene. Neutra. Noemi, ti amo, non lo so dire, a me piace, ma perché mi piace Noemi, in verità. Anche lei, come Giussi Ferreri, è uscita direttamente dal Conat. No, mi dissocio. È uscita da X Factor, forse anche della stessa edizione, tra l'altro. Però Noemi un po' meglio. Giussi Ferreri non mi piace tanto la sua... c'è la voce, mi sta un po' sulle balle. Rcomi, o Rcomi, insuperabile, è una delle canzoni più cringe della storia, terrificante. San Giovanni, Farfalle, invece... no, è carina, in verità, io questa la potrei mettere nei top, non è... diciamo, è al limite, tra neutro e top. Tananai, sesso occasionale, è terrificante, terrificante, cioè, cringe, colossale e se non sapete chi è Tananai, lo ascoltate e dite, ah sì, uno dei 400 che ha fatto una canzone quest'estate. Human, ora è qui, eh... Neutra, forse non mi ricordo neanche come faccia sta non so. Comunque sia, fatemi sapere, invece, le vostre... come classificate voi le canzoni di Sanremo. Secondo me, alla fine, sì. Non ne vedo una ancora che spicca così tanto, tranne forse... cioè, l'unica davvero bella è quella di Elisa, secondo me, che potrebbe vincere. Ho paura che possa vincere anche quella di Gianni Morandi, perché, vedendo un po' le reazioni del pubblico così, sembra bellissima, è una merda. Merda che caga merda che caga merda. Per citare qualcuno. Se no, Mahmood e Blanco potrebbero vincere. Mentre credo che il premio della critica o lo vince Elisa, ma molto probabilmente lo vince Giovanni Truppi, sicuramente. Forse il premio Lucio Dalla, che dovrebbe essere quello dell'arrangiamento... quello sì, potrebbero combatterselo. Però no, credo che il premio della critica vada lì. Stasera ci sono le cover. Stavo guardando. Non potrò guardare stasera la puntata in diretta, comunque. Truppi, ovviamente, con Caposela fa una canzone di D&D, perché figuriamoci che cosa dovrebbe fare. Ma io voglio Emma e Francesca Michelin, Eat Me Baby One More Time. Cioè, secondo me, è un capolavoro. E altri, per ora che mi saltano all'occhio, non... non ce ne sono, insomma. Vedremo, vedremo come faranno. Poi li possiamo anche commentare, magari domani commentiamo come sono andate le cover. Mi spiace se in questo video la qualità della telecamera è random, ma sto cercando ancora di capire come settarla. Vabbè, ma sti cazzi, tanto non riguarda nessuno a sto video. Ciao, amici.